Il calcio giarre-fuzzal si ferma all'ultimo ostacolo. A Gagliano-Castelferrato i padroni di casa si impongono 3-1 nella partita finale del triangolare play-off per l'accesso alla Serie C2 di calcio A5. I gialloblu di Alfiorao si rammaricano per l'andamento della partita, che ha visto il quintetto giarrese sbagliare tanto sottoporta e perdere lucidità negli ultimi minuti del match, quando invece la concentrazione doveva essere massima. E pensare che al giarre-fuzzal sarebbe bastato anche un pareggio per arrivare in C2. Gara molto tattica nel primo tempo, con le squadre che si controllano e si studiano, e le emozioni arrivano tutte nella ripresa. Il giarre va in vantaggio con Chillari, poi entrambe le squadre subiscono l'espulsione temporanea. I ragazzi di Rau falliscono almeno tre occasioni per ampliare il vantaggio, ma le sciupano malamente e il Gagliano negli ultimi dieci minuti segna le tre reti che relegalano vittoria e promozione. Ai giarresi resterà tra qualche mese la quasi certezza del ripescaggio, ma conquistarla sul campo la Serie C2 sarebbe stata un'altra cosa.